E' finalmente istituito il Fondo per la Valorizzazione dei Beni Confiscati alle Mafie, previsto da un'apposita normativa regionale dello scorso aprile. Questa mattina a Palazzo San Giacomo la legge è stata presentata dal Presidente della Regione Caldoro insieme al Prefetto De Martino, al Sindaco De Magistris, al Procuratore Distrettuale Antimafia Caffiero De Rao. La legge prevede che i beni confiscati siano utilizzati per iniziative sociali e di pubblica utilità, sui temi della partecipazione, della salute pubblica, dell'integrazione sociale e lavorativa, della lotta alle discriminazioni, della promozione della legalità, del contrasto alla criminalità organizzata. La camorra è un fenomeno che blocca l'economia di questa regione, sostiene il Presidente del Consiglio regionale romano. Il Prefetto De Martino ribadisce l'importanza delle azioni coordinate e delle reti di cittadinanza attiva. Secondo il Sindaco De Magistris, l'assegnazione dei beni confiscati ad associazioni che promuovono la crescita sociale crea in primo luogo profitto sociale, ma può anche produrre lavoro e profitto economico. La camorra molto spesso, nelle fasce più deboli, riesce a entrare reclutando i giovani meno abbienti, quelli che hanno maggiori necessità. ora diamo un'alternativa anche attraverso i beni che sottraiamo alla camorra. È la finalità istituzionale e quella sociale, è una finalità fondamentale per dare un segnale che la camorra si batte non solo sottraendo i beni ma anche destinandoli al lavoro e alla società civile. È una legge regionale importante perché prevede anche dei finanziamenti per la valorizzazione dei progetti sui beni confiscati. Del resto noi pure come amministrazione comunale stiamo lavorando moltissimo e dell'altro giorno la notizia che un'abitazione del boss di Laura a Secondigliano la destiniamo alla Polizia Municipale, i beni tornano allo Stato e quei beni producono un profitto sociale, sottraendo consenso alla camorra e economico perché con i beni confiscati si produce anche economia. Pensiamo ai prodotti della terra che fa Libera, alle cooperative di Don Peppe Diana e tutte le altre straordinarie iniziative che si fanno nella nostra città e nella nostra regione. Un osservatorio, cui prenderanno parte anche le principali associazioni antimafia, effettuerà il monitoraggio dei beni confiscati e vigilerà sulle azioni e sui risultati conseguiti.